Adesso a pallaferma sicuramente uno può dare e può valutare l'importanza del traguardo che è stato raggiunto. Sicuramente la gioia più bella è vedere tante persone gioire, festeggiare, soprattutto chi è stato l'artefice di questa società. E mi riferisco come al Presidente storico e soprattutto al Presidente attuale che comunque è stato uno che ci ha creduto dall'inizio. E la gioia più bella anche per Franco Delgado? Sicuramente di vittorie ne ho fatte, ma sicuramente il camionato di eccellenza, l'approto che ti porta all'inizio del calcio professionistico è sicuramente qualcosa di grandissimo, non di grande. Adesso quale sarà il futuro del direttore Delgado? Il futuro del direttore Delgado, al momento uno si sta godendo quello che è stato fatto. Abbiamo iniziato da domenica a vedere questo spareggio, domenica sono stata a Castellammare a vedere lo spareggio frattese Giuliano. Una bellissima partita, una bella cornice di pubblico e quindi in quel momento io ho valutato effettivamente la gioia, la vittoria e la grandezza della vittoria che il San Dommaso e tutto il quartiere di San Dommaso ha ottenuto. Vediamo, vediamo, siamo in attesa. Da parte mia c'è tutta la massima disponibilità e la volontà di voler continuare con la società il lavoro che è stato programmato due anni fa. Probabilmente l'ander che noi abbiamo cercato e abbiamo trovato è stato quello di Massaro, perché Massaro secondo me era anagrafico come under.